che hanno accolto questo bambino nelle loro case. Vi invito oggi a mangiare bene, a mangiare tutto, a bere con abbondanza. Per cortesia la Coca-Cola, oggi facciamo un momento di conversione anche del seve, lo facciamo bere. Vino buono perché il vino è segno della vita eterna. In paradiso, fratelli miei, gli astemi non potranno venire, seve, perché si beve il vino. Vedrete, vedrete che seve diventerà uno di noi, uno dei nostri. Bene, fratelli, l'augurio di Buon Natale alle vostre case e alle vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.